Tragedia nel giorno di Natale, un padre e i suoi due figli sono morti in seguito ad un incendio che ha distrutto la loro abitazione in Pensilvania. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il rogo sarebbe partito dall'albero di Natale a seguito di un corto circuito causato dalle luci decorative. La CNN è stata la prima emittente a raccontare la storia della famiglia King, morta proprio nella notte di Natale. I tre erano addormentati quando l'incendio li ha accolti di sorpresa intorno all'1.22 di sabato. I tentativi di domare le fiamme per poi introdursi nell'abitazione sono durati ore. I vigili del fuoco hanno potuto entrare nell'appartamento soltanto quando l'incendio era stato spento quasi del tutto. A quel punto non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Eric King, padre di 41 anni, e dei suoi due figli che frequentavano le elementari. Unici sopravvissuti, la madre dei due bambini e il figlio maggiore, fuggiti appena in tempo con gli eviustioni, non è stato possibile salvare neppure i due cani di casa. Solitamente tenuti in giardino, nell'occasione i due animali si erano introdotti in casa per cercare di salvare la famiglia. Solitamente tenuti in giardino, la madre dei due bambini e il figlio maggiore, fuggiti appena in giardino, fuggiti appena in giardino, fuggiti appena in giardino. Solitamente tenuti in giardino, fuggiti appena in giardino, fuggiti appena in giardino, fuggiti appena in giardino.